Poteva essere scontro e scontro è diventato tra il governatore Mario Oliverio e la ministra alla sanità Giulia Grillo la vicenda delle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere calabresi. In sostanza Oliverio, già avvertito in una dichiarazione della ministra di interloquire con l'ufficio del commissario alla sanità in Calabria, ha replicato a musso duro alla Grillo affermando che le competenze delle nomine sono sua prerogativa istituzionale ed ha proceduto proprio ieri alla designazione. A Crotone arriva per esempio Antonello Graziano, già candidato alle regionali con la lista Oliverio Presidente, mentre il regente dell'aspo crotonese, il dottor Fico Giuseppe, va a dirigere all'aspo di Catanzaro. Anche Angela Caligiuri viene rinominata direttore dell'aspo di Vibbo, mentre a Cosenze rimane Mauro. Da definire la vicenda di Reggio Calabria dal momento che lì rimane in sella scura, che si era proprio autonominato direttore dell'azienda sanitaria provinciale. Sullo sfondo una polemica già aperta con il vice di Cotterelli, dottor Schell, su cui la regione ricorre al TAR per un conflitto di interessi che lo stesso Schell avrebbe con la regione dal momento che esiste un contenzioso di 440 mila euro per la revoca di direttore generale dell'aspo di Crotone che Schell subì alcuni anni addietro. Lo scontro però allarga i suoi confini con le dichiarazioni di alcuni esponenti politici come quello della Santelli che paventa il pericolo che le polemiche in sanità si trasferiranno sicuramente sulla pelle dei calabresi. E questo nuovo scenario vede comunque protagonisti parlamentari di 5 Stelle che criticano pesantemente i provvedimenti di nomina fatti da Oliverio e promettono una battaglia senza limiti.